Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite E oggi non siamo da soli, ma non siamo neanche con un ospite speciale Più dell'ospite speciale, perché oggi siamo qui con... Cali saluto Allora ragazzi, ve l'ho portato anche su Fortnite Era da un bel po' di tempo che non ve lo portavo Ma è un po' del distributore A quanto? A 500 Aspetta, devo spaccare un po' Oh, c'è anche il pompatellone, attenzione Allora, raga, io ve lo dico Per prossimi episodi con questo ospite dovete lasciare per forza un pollicione in su Dimmi tu quanti like devono superare Almeno 10.000 Allora, almeno 10.000 E porteremo altri episodi, ma non solo battaglie Ma anche tipo sfide, io contro di lui e roba del genere Poi vedremo Esatto, challenge che dovrete consigliarci voi Intanto io dovrei iniziare a lotare Ma tu dove sei? Io, eh, io mi sono andata ad aprire un attimo una cassa Stamattina abbiamo giocato un po' insieme Siamo arrivati, abbiamo fatto terzi Sempre in coppia Guarda, guarda che è bassissimo Ha 90 di vita Eh, io ho tolto 90 di vita Ok, eh ma Ci sarà sicuramente anche il compagno Stasura discesa vincere Sura lui è tolto 24 Do sta, sotto? Eh, credo di qui Aspetta, aspetta che sento Ma non sono neanche troppo forte Eh, ma il problema Il problema è che ora Sanno Sanno due di loro Mi sentito Eh, vabbè Due di loro Non potevo fa' tantissimo Vabbè, dai Allora Prima di riscaldamento Ora dobbiamo andare concentrati No, no, no Si trova Perché ci stanno già delle casse Lì dove sta l'albero Dopo me la vado a prendere Però intanto Ci lutiamo Oh, ottimo Già pompa del nonno A posto Cioè, qua Si lutta tranquillamente E stai anche tranquillo Per rinirsi, eh Io solitamente di qua Prima Mi lutto le case Poi ci stanno Delle casse Accanto E io solo un pompa Aspetta Ora andiamo Dove stanno le casse C'è chi non le c'è C'è chi non le c'è Chi non le c'è C'è chi non le c'è Qua palestra Però mi fullo Mi fullo Mi fullo Con lo scelto Cioè, qualche M4 verde in più Ma dove sei? Dove sei tu? No, io le M4 non ce l'ho proprio Aspetta, sto venendo Ah, io la trovate in più Però sono tutte e due grise Aspetta che di là già vedo roba verde Allora Ora salgo un attimo là sopra Dove sta quell'auto Che solitamente Di là ci stanno le casse Poi è una cassa qua Sotto quest'albero qua Anzi, due stavolta Vabbè, va un po' fucile Meglio di niente Ci avremo pure quest'altra Perfetto Vabbè, metraglietta No, la metraglietta non la voglio Ho trovato un cittino pesante Ottimo Lo prendo per te Proprio un po' qua Vieni qua, vamba fucile, Giovan Vabbè E ci sta anche una pozione Giovan, devi venire ora Devi venire ora Eh, ce l'ho Io ce l'ho Eh, tengo uno scudo qua per te Quello lì grande Vieni qua sopra Vediamo di qua cosa c'è sta No, io sono fuori ferito Ah, va Guarda, ci sta il semi automatico Vabbè, me lo scambio C'ho medikit Eh, manco io ce la faccio Ma non mi serviva sto tutto Eh, te l'avevo detto Giovan Vabbè, c'ho band La parte che è lenta Poi c'ho band E... E medikit Io ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Oh, mi devi Vabbè, non so niente Che stelissime Sto... Vabbè, rimango con 86 85 Attento, eh Attento Sei tu qua? No Oh, cavolo Oh, cavolo Mamma mia Mamma mia Tu dove sei, tu? Sto iniziando a laggare, però Eh, infatti Ogni volta inizi a laggare Raga, mi dovete spiegare Perché appena sto vicino Una persona Laggo Non lo capisco Sto motivo Allora, raga Io non lo prendo Il pompa del nono Anche se quello lì Era blu Non l'ho preso Perché onestamente Non mi trovo Oh, lo prendevi per me Oh, lo prendevi per me Eh, no Non potevo Perché ero giardino Giovanni Giovanni Ti devi muovere Giovanni Sto lanciando con il lancio granate Con... Cerca di evitare Eh, sì Oh, ci sono insieme Eh, vado Giovanni Dovevamo stare insieme Eh, però Eh, lo so Però Eccolo Sento gli spari Non ti avvicinavo Allora, io già sto iniziando a laggare Eh, lo sento io Giovanni Sono qua Sono molto vicino a te, eh Così, ma non venire Non venire Proprio No, 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 no Devo scappare Oh, ne siamo già dodici, eh Già dieci Sono proprio dove Eh, no Mi sta laggando Mi sta laggando, Giovanni Ma l'hai messa tu questa trappola Raga, sto laggando tantissimo Non so perché Quando mi avvicino alla gente Laggo Non ti sento Non ti sento Eh, infatti sto laggando No, non la fa Se non rischi Giovanni 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 Mi lagga Eh, esatto Lo sapevo Eh, mi lagga Appena mi avvicinavo Uno mi lagga Non li avevo proprio visti Loro ci avevano visti E ci stavano aspettando Aspetta Aspetta Fermo, fermo Non ti fa vedere Perché ne sono due Se non di più No, no, no Fermo Vai No Come sta il trappolo? Dai Che peccato 50 di HP Ma poi la trappola Non l'ha colpito Scusami È colpito A putrido No Vabbè, sì A putrido Eh, vai, vai Allora raga Ultima partita Ce ne andiamo a putrido Eh, ci proviamo Però io Me lo Volete spiegare voi Perché laggo Eppure c'è la fibra Eppure c'è la fibra Laggi troppo Laggi troppo Cioè non ti senti proprio Eh, esatto È da ieri È da ieri Che sto laggando un botto Non capisco cosa stai dicendo Guardate qua raga Guardate qua Cioè proprio vanno Vanno in ritardo I comandi Non so perché Comunque c'è un team C'è un team qua Allora io vado Nell'albero centrale Io vado in quest'albero qua Che già ci stanno due casse Ah, ah Ci stanno andando pure No, sei di vita Come sei di vita? Ti hanno colpito? No Oh, dammi la meno Sul buono Che sei di vita Ah, no L'ho trovato L'hai trovato? Eh, non c'è niente Abbiamo un po' niente Oh, ma quante casse hai detto? Sono aggando Due Sono aggando tantissimo Eh, due Ma è sto malissimo Non c'è niente Ah, non c'ho armi Oh, dammi le mie quattro Ho altri colpi per la stanza Prenditole due Qua è sette Che mo' dietro di noi Quindi viene tutto Tutto lande letale Non c'era nessuna lande Solo una coppia Non ho capito C'era solo una coppia All'ande Ma io non c'ho costruzione Quante costruzioni c'hai? Ma tu perché non spacchi gli alberi? Sparca Così, ma quante costruzioni c'hai? 462 Eh, dai Dammi un po' di costruzioni Eh, vieni qua Ma cos'è quell'orso? Ma c'è sempre stato? Quale orso? Oh, aspetta 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 Quell'orso là lo vedi? No L'hai visto quell'orso? Ah A nord 17 Ah, quello là Sì, c'è sempre stato Aspetta Vediamo prima la safe Come si chiude E io già laggo Oh, c'è un asciutto Ah, eccoli, eccoli Ne sono due Ne sono due Eh, ma io laggo Aspetta Aspetta Che quelli mo' vengono di qua Quelli mo' vengono di qua No, non mi vedo Non mi vedo Con la punta dell'arma Si vede la punta dell'arma Attraverso il muro Eccoli, 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 eccoli Giovanni, sei pronto? Sì Vai Eh, ti pareva Oh, non muore Non muore Eh, a me non mi era partito il colpo Ha laggato tutto Eh, ma tre colpi di colpo in testo Non muore Va bene ragazzoli Questo video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Lasciate un pollicione in su Quanti like? Dillo tu 10.000 Dai, proviamo a raggiungere i 10.000 Se non l'avete ancora fatto Iscrivete al canale Cliccate sulla campanella Non ci sono state battaglie così tanto epiche raga Ma appena mi avvicinavo ad un avversario Iniziava a laggare tutto E che ci posso fare anche all'ultimo fight Ho mirato Volevo sparare per colperlo in testa E non ha sparato Grazie mille Fortnite Eppure io non è che c'ho problemi di connessione E niente ragazzoli Qui da Kazoo-san E da Kazoo-san Junior E' tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao